Era un'opera attesa da tantissimo tempo a Cireggio l'allargamento della via Varallo che l'amministrazione comunale ha inserito tra gli interventi una tantum nei quartieri. Adesso si comincia veramente a lavorare. L'amministrazione comunale ha voluto mettere a bilancio per i cinque anni in cui sarà ad amministrare la città gli interventi sulle frazioni. Abbiamo iniziato con la frazione di Agrano con la riqualificazione di tutto il parco. Adesso siamo nella frazione di Cireggio dove abbiamo voluto portare avanti grazie alla collaborazione anche del consiglio di quartiere e lo stesso anche del consigliere di minoranza Dario Galizzi in cui ringrazio pubblicamente abbiamo deciso di fare questo intervento sulla frazione. Questo progetto prevede l'allargamento di una strada abbastanza utilizzata e grazie a questo allargamento di un metro e cinquanta permetterà per una sessantina di metri di poter avere il doppio senso su questa strada. Nella fattispecie si allargerà la strada e poi verrà anche sistemato il muretto. Sì, giustamente anche grazie alla donazione del privato che ci ha concesso questo piccolo pezzo noi andremo a ricostruire il muretto adesso ormai crollato e permetterà un allargamento ovviamente della rete viari. Per il quartiere di Cireggio, consigliere Galizzi, un intervento che era atteso e migliorerà finalmente la viabilità. Sì, finalmente dopo cinque passaggi di consigli comunali, io cinque anni dietro ho fatto cinque mandati in consigli di quartiere e ci siamo riusciti a fare questo. Grazie, ringrazio soprattutto l'assessore Strada ma ringrazio soprattutto anche quella persona padrone del terreno che ha concordato di lasciare un pezzo di terreno per poter lavorare anche per tutta la gente. Noi siamo contentissimi di Perceggio perché Perceggio almeno si è sempre a fare qualcosa. Io spero che si possa fare anche qualcos'altro andando in avanti. Grazie.